Mi chiamo Salvatore Freseto e vengo dalla Sardegna. Io sono venuto dal dottor Palmas perché ho saputo tramite un mio amico che è dalla Sardegna. Quindi ho deciso di venire qua, sono andato in Romania, ho preso il preventivo, mi è piaciuta la clinica, mi è piaciuto tutto lo staff e quindi ho deciso di venire qua e farmi tutta la dentiera, diciamo così. Sono molto contento con la dentiera che mi hanno messo. Prima c'avevo la previsoria per un anno e non ho mai avuto problemi e quindi tutto va bene per me. Hanno fatto un bel lavoro, sono molto bravi e speriamo che tutto vada bene per il futuro. No, vabbè, cambia tutto. Avere un bel sorriso vuol dire tanto nella vita. Presentarsi alla gente con un bel sorriso è una cosa molto bella. Essere senza sorriso, la salute anche, tutta un'igiene, tutto meglio, capito? Si sta meglio con un bel sorriso. Fai una bella rappresentazione, vedi una bella bionda, una bella moretta, la guardi, gli sorridi. Ho già detto da prima e adesso che quando sono venuto qua sono rimasto impresso con la tecnologia, con tutto quello che c'è qua, la serietà della gente e la comodità della gente, che ti fanno star bene, sei tranquillo qua. E io raccomanderei in qualsiasi momento o qualsiasi persona di venire qua, senza problemi, senza proprio niente. Perché si sta bene, sono bravissimi, sono bravissimi.